Correva l'anno 1893 quando l'allora bottega artigiana specializzata nella produzione di fisarmoniche apriva i battenti. Oggi quella piccola realtà è diventata un solido punto di riferimento per la vendita di strumenti musicali, attrezzature acustiche, riparazioni artigianali, service e installazioni di impianti audioluci. L'ampio assortimento di strumenti musicali affascina e fornisce ogni giorno professionisti e neofiti del settore. Grazie ad un laboratorio interno, Verde offre anche un servizio assistenza e riparazione, il fiore all'occhiello, lavorazioni artigianali per fisarmoniche e strumenti di liuteria. L'attività garantisce inoltre servizi professionali dedicati al service per spettacoli, concerti, conferenze ed eventi. Il carattere altamente professionale dell'azienda si declina oggi non solo nell'assortimento dell'ampio punto vendita, ma anche in un ricco e-commerce a disposizione di ogni cliente. Verde, passione in musica. Visita il punto vendita e scopri tutti i prodotti.